Il problema delle scie chimiche o comunque del clima globale è un problema fondamentale perché dal punto di vista militare si è sempre voluto, fra virgolette, possedere il tempo meteorologico. Lo studio a quel 1996 era in effetti uno studio preliminare per avere l'autorizzazione a condurre degli studi per fare in modo che entro il 2025, secondo delle tappe ben precise, ma entro il 2025 si potesse controllare il tempo meteorologico in zone localizzate ma abbastanza ampie in modo da permettere le operazioni militari. C'era una struttura localizzata, c'era una ristrutturazione, una modifica del clima prevista ma a livello locale. Intanto la guerra ambientale non è che sia una cosa che debba ancora venire, praticamente sotto certi aspetti è già cominciata. Se noi diamo per scontato che la modifica dell'ambiente, dell'ambiente meteorologico o comunque dell'ambiente naturale in determinate zone è un fattore di potenza, è così anche un fattore di guerra, quindi deve essere considerato. Guardi, non è che i Romani erano matti perché dicevano che dopo aver distrutto Cartagine dovevano seminare sale su tutto il territorio, lì non sarebbe nato più niente, per cui questo era già un tipo di guerra ambientale, anteliteram se si vuole. Bene, modificare il tempo meteorologico e modificare comunque le situazioni è un fattore di potenza, ecco perché in quello studio si dice che modificare il clima o il tempo meteorologico è un moltiplicatore di potenza e questo è una cosa che è abbastanza normale. Le scie chimiche attualmente innanzitutto non si sa bene se esistono veramente o no. Io ho dei molti dubbi sulla possibilità che esista un piano di questo genere e in effetti lo considero un po' una teoria del complotto da un certo punto di vista. Però da altri punti di vista mi fa venire qualche dubbio, nel senso che se i meteorologi, se gli militari, se le fonti ufficiali non danno alcuna risposta soddisfacente, ci deve essere qualche cosa che non funziona perché altrimenti sarebbe tutto quanto alla luce del sole. Bene, sulla connessione tra scie e HAARP non ci dovrebbe essere una connessione o una sovrapposizione se non per un particolare, che nel progetto HAARP la modifica della zona ionosferica che dovrebbe essere indotta con questi lanci di onde elettromagnetiche ad altissima frequenza avrebbe poi bisogno di una base per poter, di una base con particolari caratteristiche metalli oppure particolari caratteristiche di ioniche e anche elettromagnetiche per poter ampliarsi e per poter diffondersi. Bene, in questo caso i complottisti dicono che proprio quelle scie di bario o quelle scie di alluminio o quelle scie di altri metalli sarebbero lì a fare da schermo per questo possibile bombardamento elettromagnetico che viene dal sistema HAARP. È una congettura, però guardate che scientificamente ha senso. Innanzitutto se sono scie chimiche vuol dire che c'è bisogno di irrorare una zona con determinati materiali. Questo di irrorare la zona con determinati materiali è un fatto anche questo abbastanza vecchio in agricoltura. Con lo ioduro d'argento, i sali di ioduro d'argento si disseminano nell'atmosfera quando c'è poca pioggia e allora questi fanno da condensazione e fanno poi piovere in pratica dove si vorrebbe. Gli agricoltori americani, ma gli agricoltori ormai di tutti i paesi del mondo sono abituati ad avere, a chiedere l'intervento di queste cose. Così come sono anche abbastanza comuni le irrorazioni di pesticidi, irrorazioni di disinfettanti e così via. Dal punto di vista scia chimica come minaccia o come strumento militare io dico la verità, non l'ho mai visti e non ho mai avuto un minimo di prova che esista una cosa di questo genere. Però ripeto, siccome tecnicamente è possibile, siccome la volontà di possedere un moltiplicatore di forza c'è, siccome gli studi anche in ambito militare vengono fatti proprio su queste modifiche di carattere ambientali, manca soltanto sapere se c'è la volontà di usarli o no. Dal mio punto di vista, se c'è la possibilità, in ambito militare c'è poi anche la volontà, perché abbiamo impiegato in ambito militare tutte le innovazioni scientifiche più disastrose, compresa la bomba atomica, soltanto per manifestare e possedere potenza. Quindi, però, questo dubbio, se ci siano veramente queste attività in atto oggi, secondo me è dubito molto, però tecnicamente e teoricamente la possibilità c'è. Durante tutte le operazioni nella mia carriera alle quali ho partecipato, io sono stato poi anche, ho fatto servizio negli Stati Uniti, non ho mai assistito personalmente a queste cose, però l'atterratura, soprattutto nella guerra del Vietnam, ormai è chiara, sono stati usati gli agenti defolianti che sono dei grandi modificatori ambientali della natura, della vegetazione e anche delle condizioni di vivibilità di queste zone. Con la famosa diossina TCCD, che era un componente fondamentale di questi agenti, dell'agente orange nel Vietnam, o comunque in tutto il sud-est asiatico, con questa diossina ci sono fatti dei danni che ancora oggi fanno sentire le conseguenze. Quello che ho potuto vedere è invece come il tempo e le condizioni atmosferiche condizionano le operazioni militari. Noi abbiamo cominciato la guerra in Kosovo nel 1999, doveva durare la campagna aerea due settimane, è durata 78 giorni, e la maggior parte di questo ritardo e di questo allungamento delle operazioni è dovuto alle condizioni atmosferiche che non permettevano il volo o determinate missioni aeree. Quindi quello che sta nella premessa, è scritto nella premessa dello studio degli americani su On in the Weather, è una frase che è dentro, è un pensiero che è dentro la mentalità di tutti i militari. E il fatto è questo, il tempo meteorologico può essere un nemico delle nostre operazioni. E allora bisogna fare in modo che questo nemico venga battuto oppure venga aggirato. Questa mentalità, che è una mentalità prettamente operativa, è ormai diffusa dappertutto. Per cui se qualcuno mi dovesse chiedere se ci fossero le capacità e le possibilità pratiche per modificare il clima, sarebbe anche uno strumento di guerra? Io rispondo determinatamente di sì. Perché noi militari, se abbiamo uno strumento e abbiamo la cognizione, come in quel caso, che ci sia un nemico da battere e questo strumento può battere quel nemico, noi lo usiamo. Le scienze chimiche possono avere, se esistono e se veramente vengono immessi nell'aria, nell'atmosfera di questi agenti praticamente venenosi, ci sono delle conseguenze sulla salute delle persone, salute non necessariamente fisica, ma anche mentale, perché ci sono degli agenti che poi fanno, se fossero vero. Quello che è vero invece è che l'utilizzazione di determinati strumenti, non necessariamente harp o scie chimiche, ma altri strumenti, come le esplosioni controllate, possono favorire e possono innescare degli tsunami. Lo scienziato Leach, neozelandese, nel 1946, lo fece proprio, praticamente, provocò una serie di piccoli tsunami controllati a largo della Nuova Zelanda proprio per dimostrare che si poteva fare. Quella volta lui usò delle cariche esplosive messe nel fondo marino e queste cariche esplosive erano di esplosivi praticamente tradizionali, tritolo, pentrite. Oggi abbiamo a disposizione centinaia di migliaia di ordigni a fissione, cioè piccoli ordigni nucleari, piccoli ordigni atomici che praticamente non servono. Per cui qualcuno gli potrebbe anche venire in mente che invece di prendere una tonnellata di tritolo e portarla giù sotto il mare, perché non prendiamo un chilo di quest'altra cosa e lo buttiamo nel mare. Mi risulta, o almeno così, ho letto che ci siano delle compagnie petrolifere o delle compagnie di studi sismografici che vogliono simulare proprio dei terremoti in modo da vedere come le onde si trasmettono nel fondo sottomarino oppure anche sulla crosta terrestre. non vorrei che gli venisse in mente di usare piccole bombe atomiche per queste, perché veramente allora lì si potrebbero anche innescare delle conseguenze che è meglio non pensarci. che le tue per il bambino come le tue e che le tue può più che il bambino che i